Salve, ho 44 anni e vorrei fare un piccolo annuncio. Vivo ancora con i miei genitori, perché diciamo che mi sono trattenuto un po' di più in casa. E poi stamattina, come ogni mattina, mi sono svegliato presto, a mezzogiorno, e mi sono detto Ma perché non mi cerco una ragazza anch'io? Non ho molte pretese, quindi adesso vi elencherò alcuni dei dettagli di come deve essere la mia donna ideale. Non deve essere esageratamente ricca, però diciamo che abbia almeno uno stipendio minimo di 10.000 euro al mese. Ovviamente che mi mantenga, non ho alcuna intenzione di cominciare a lavorare, però comunque mi posso rendere utile in casa, posso rispondere al citofono, e se me la sento anche al telefono. Non deve essere necessariamente bella, però che si sia almeno classificata fra le prime tre posizioni di visitaria. La colazione è fondamentale, quindi ogni mattina devo portarmela a letto. Durante il periodo del ciclo, dato che sicuramente sarò molto stressato, me ne vado in vacanza da solo, ovviamente pagate da lei. Le dimensioni non contano e io sono d'accordissimo. Mettiamola così, le mutande suono un uovo di Pasqua. E io ho un kinder sorpresa, possibilmente che non soffra di mal di testo. Tutte le volte che provo ad avvicinarmi a una ragazza, gli venivano delle emicrani assurde, e quindi non si concludeva niente. Io ho fatto. E sfortuno. Premettiamo che sono tirchio. Pensate un po', una volta mi sono fermato vicino a un palo, era mezzanotte, c'era una ragazza bellissima. E poi ci ho provato. Ovviamente, col mio spirito dopo di voi, festata subito. L'ho portata fuori a cena, e al ritorno mi sono fatto dare i soldi della benzina. Non faccio nulla, non spazzo, non stiro, non lavo, non faccio assolutamente nulla. E nulla è quello che voglio continuare a fare. Avete presente i gatti? Mangiano, bevono, e le concure le vogliono quando lo dicono loro. A Natale, non faccio assolutamente regali, ma tu ovviamente dovrai farlo me. Il regalo me lo sceglio io, lo compri, lo incarti, e quando verrà il momento di aprirlo, io farò fida di non sapere nel contenuto, così siamo tutti contenti. E questi erano alcuni particolari di come deve essere la mia donna ideale. Vi prego solo di non contattarmi tutte insieme, comunque siete infante, lo so, vorrei accontentarvi tutte. Ma solo una, la più fortunata, avrà il privilegio di passare il resto della sua vita insieme a me. Ma solo una, la più fortunata, avrà il